Sono numeri che preoccupano quelli relativi ai contagi registrati negli ultimi giorni in provincia di Teramo, soprattutto nel comune capoluogo dove le misure restrittive non sono servite a molto, visto i grandissimi assembramenti registrati in centro città in questi giorni di festa. Il rito dell'aperitivo della vigilia fatto mettere da parte il buonsenso è reso inefficaci gli annunciati controlli delle forze dell'ordine. A Teramo devo dire che ci sono state situazioni che non sono andate, non generalizzerei perché comunque non c'è stata una risposta tutta scomposta e fuori dalle regole, tutt'altro, ci sono state alcune situazioni su cui si è intervenuti, altre che hanno fatto registrare situazioni non accettabili, però Teramo era l'unica città che nel territorio provinciale aveva quantomeno l'ordinanza delle mascherine, aveva vietato, come è successo, l'utilizzo della musica, comunque la diffusione sonora sia all'interno che all'esterno dei locali. Le misure c'erano, ci sono, le avevamo adottate, a differenza di altri territori, come previsto per alcune situazioni sono andate al di là delle regole. Guardi, io mi sono fatto fare un resoconto dalla polizia locale, ho sentito il questore, la polizia c'era, le forze dell'ordine erano presenti, così come la polizia locale, e ci sono stati controlli ed interventi. E' chiaro che se pensiamo di poter fronteggiare dopo due anni la pandemia con i controlli, dopo tutti gli appelli che sono stati fatti, dopo tutti i richiami al senso di responsabilità, ecco, questo è particolarmente svilente, non si sconfigge con controlli, sanzioni, sì con gli strumenti di prevenzione, abbiamo adottato l'ordinanza proprio per questo, ma se non capiamo che dipende da ciascuno di noi. Guardate, l'alternativa a questo punto è solo la chiusura, dobbiamo tornare a chiudere tutto, questo è quello che chiediamo ai nostri cittadini, terzium non datur, quindi la responsabilità di tutti i cittadini è fondamentale, ne dobbiamo dare mostra soprattutto in questo periodo con le misure che sono state adottate. Grazie. 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 Grazie.